E allora ragazzi, eccoci qua, recensione di Amazfit BPU, vi do subito una prima buona notizia, ovvero sia che il BPU non ha lo stesso bug di GTR2 e di GTS2 che misurano in modo completamente sballato i passi, ma qui si comporta bene, l'ho messo a confronto con un Apple Watch e come potete vedere da questa immagine Apple Watch mi ha segnato 6.789 passi contro i 7.540 di BPU, considerato che io dico sempre che Apple Watch sottostima un po' i passi, qua si è comportato bene. Per il resto, che dire? Allora ragazzi, sicuramente è uno smartwatch molto molto economico, ok? Sono materiali completamente di plastica e sicuramente non avete la sensazione di trovare al polso uno smartwatch premium. Per quanto riguarda invece la fluidità, questa buona, nel senso che l'ho sempre trovato abbastanza fluido, qui direi che come livelli di fluidità siamo assolutamente ai livelli dei suoi compagni di viaggio, dei suoi fratellini o fratelloni che sono GTS2 e GTR2. Per quanto riguarda invece la parte smart, allora andiamo subito a verificare le notifiche, voi potete fare uno swipe verso l'alto e come vedete le notifiche vengono distinte per iconcina che vi rimanda all'applicazione, ma allora, due cose che non mi sono piaciute. Prima di tutto il fatto che come vedete qui all'inizio di ogni sender compaiono questi, vediamo se si vedono un po' meglio in questo caso, compaiono questi fastidiosi punti di domanda. Non so perché, ma compaiono e questo naturalmente è molto molto fastidioso. Per quanto riguarda il resto, poi potete vedere che sì, potete ricevere le emoticons, ma no, se questa era la vostra domanda, non potete andare a rispondere alle notifiche. Quindi la gestione è assolutamente la solita di Amazfit. Tra l'altro, vi sono dimenticato di dirvi quando proprio vi parlavo dell'aspetto estetico, beh, l'aspetto estetico sicuramente non è dei migliori, anche per, non so se si vede qua in controluce, per questa grossa cornice che qua c'è alla base inferiore, che sicuramente non contribuisce all'aspetto premium di questo smartwatch. Ma dicevamo, notifiche quindi, solita solfa di Amazfit, anche per quanto riguarda le chiamate, se vi chiamano potete solamente rispondere, oppure potete riattaccare, ma non potete rispondere con risposte preimpostate, mentre per quanto riguarda aspetti positivi c'è non disturbare, non disturbare anche intelligente, che quindi se riconosce che vi addormentate non vi manda le notifiche. Per quanto riguarda invece la vibrazione, l'ho trovata buona, una buona vibrazione, e soprattutto forte si sente al polso, anche se bisogna dire che un pochettino si sente anche all'udito. È presente inoltre il lettore musicale, se voi fate uno swipe da sinistra verso destra, andate al lettore musicale che va a controllarvi la musica che avete sullo smartphone, ma voi non potete riprodurre musica direttamente sullo smartwatch, semplicemente perché questo smartwatch è assolutamente sprovvisto, sia di microfono che di altoparlante. E Dulcis in fondo non ha l'NFC, quindi non potete neanche fare dei pagamenti digitali col polso. Alexa? C'è Alexa? No, non c'è Alexa. Perché? Perché Alexa la troverete nel BPU Pro, quindi nella versione un po' più fighetta del BPU, che in più, oltre ad Alexa, avrà anche il GPS, perché questo smartwatch non ha nemmeno il GPS integrato. Insomma, sulla parte smart è nella norma, nella norma di Amazfit, quindi chi si illudeva, si aspettava la possibilità di rispondere alle notifiche, sarà rimasto deluso. Ed è strano perché io mi aspettavo una parte smart implementata meglio, e invece una parte fitness un pochettino più buttata lì. E invece nel caso di questo BPU è esattamente il contrario. Perché dico così? Beh, perché prima di tutto questo BPU ha il solito Personal Activity Index, che è un pochettino il marchio di fabbrica ormai di Amazfit, ovvero sia quell'indice che vi dà la possibilità di verificare quanto state portando avanti una vita sana. Quindi questo indice deve essere sempre superiore a 100. Vi è naturalmente la possibilità di rilevare la frequenza cardiaca, vi va a rilevare anche il sonno. Tra l'altro il sonno voi lo potete andare a controllare, sia attraverso lo smartwatch, che vi dà alcune indicazioni. Vedete qui, magari lo avvicino un attimo, vediamo un po', lo avvicino, vi dice sostanzialmente quante ore avete dormito, ma la stessa cosa voi potete anche andare a vederla sullo smartphone. Oltre al sonno vi va a misurare, poi anche vi va a misurare lo stress, vi va a misurare l'ossigenazione del sangue. Qui l'ho messo a confronto con un saturimetro e come vedete gli scarti sono abbastanza relativi. Stiamo parlando di due punti di scarto che naturalmente sono assolutamente nel margine di errore. Quindi stress, respirazione, SpO2, tracciamento del sonno e poi anche l'ho messo alla prova sulla misurazione del battito cardiaco, su cui è stato abbastanza preciso per quanto riguarda le pulsazioni a riposo. Ha seguito abbastanza bene il cuore quando ha iniziato a salire con le pulsazioni, però in fase di recupero ha avuto un comportamento un po' strano. Quindi ha avuto un disallineamento piuttosto importante rispetto alla fascia cardio. Tra l'altro questo smartwatch, oltre a tutte queste funzionalità, farà piacere anche al pubblico femminile, riesce anche a tracciare la salute femminile attraverso la tracciatura del ciclo. Però qui la cosa strana è che nel momento in cui andate a inserire alcuni dati, alcuni smartwatch, se riconoscono che avete inserito sesso maschile, non vi fanno vedere questa funzionalità, laddove invece la Mazfit B+, ve la fa vedere comunque. In ogni caso, una funzionalità che può essere gradita ad un pubblico femminile. Andiamo invece a vedere adesso la parte degli allenamenti. Allora, allenamenti sono tanti, perché stiamo parlando di oltre 50 allenamenti. Attenzione bene, però, che questo smartwatch non ha il GPS integrato, ma è impermeabile fino a 5 atmosfere. Allora, per quanto riguarda gli allenamenti, diciamolo subito, non mi è piaciuto il fatto che voi non possiate andare a stabilire un obiettivo. Se infatti cliccate qua sotto, voi potete andare a scegliere la pausa automatica, gli avvisi delle attività, potete scegliere altre cose, ma non vi è la possibilità di settare un obiettivo. Se poi voi cliccate su Go, andate sulla schermata degli allenamenti, se fate swipe in alto o in basso, voi potete scorrere le varie informazioni che sono discrete, c'è anche il tracciamento, c'è anche la possibilità di andare a vedere se siete in una determinata fascia cardiaca oppure no. Se fate uno swipe da sinistra verso destra, potete interrompere o mettere in pausa, mentre se fate uno swipe da destra verso sinistra, andate direttamente nel lettore musicale. Un'altra cosa che non mi è piaciuta della parte di allenamenti riguarda l'impossibilità per quanto riguarda questo smartwatch di tenere sempre acceso il display quando fate un allenamento. Quindi dovrete ruotare il polso perché poi dopo un po' di tempo lui si spegnerà. Bene il fatto però che lo possiate collegare ad alcuni account esterni come per esempio Strava. Quindi parte di allenamento e fitness che tutto sommato non è male ma sicuramente non ha nulla in più rispetto a quello che vi dà un GTS 2 oppure un GTR 2. Grazie, sono anche smartwatch di categoria superiore. Parliamo invece di un display, stiamo parlando di un TFT 1,43 pollici con una risoluzione di 320x302. Allora, naturalmente rispetto all'AMOLED sicuramente i neri sono meno profondi, non ha un sensore di luminosità automatico ma devo dire che la luminosità anche al minimo è molto forte. Infatti come potete vedere da queste immagini sia con la luminosità al massimo sia con la luminosità al minimo comunque all'aperto voi davvero non dovreste avere problemi a controllare l'ora ed è meglio che sia così perché questo smartwatch non ha always on display. In compenso ci sono oltre 50 watch face e voi li potete selezionare direttamente dallo smartwatch andando a tenere premuto sul quadrante e alcune di queste watch face possono essere anche settate attraverso delle complications. Sulla batteria mi aspettavo decisamente di più perché Amazfit vi dice che con un uso intenso arrivate a 5 giorni con un uso leggero arrivate a 9 giorni. Io non l'ho usato tantissimo sì l'ho usato come il mio smartwatch principale ma non ci ho smanettato più di tanto ebbene giovedì 17 dicembre ero al 100% di batteria alle 9 del mattino e dopo circa 48-49 ore ero al 62% quindi stiamo parlando più o meno del 20% al giorno che vi fa traguardare i 5 giorni ok che però è il traguardo minimo dato da Amazfit qui sinceramente mi sarei aspettato qualcosa di più. Conclusioni allora iniziamo col prezzo perché i prezzi su Amazon in questo momento variano e variano parecchio andate dai 63 ai 95 euro allora ve lo dico subito per quanto mi riguarda non vale la pena spendere 90-95 euro per questo smartwatch se lo trovate intorno ai 50-60 euro pensateci ma pensateci fino ad un certo punto perché con 10 euro in meno vi portate a casa sempre di Amazfit la Amazfit Band 5 che non ha nulla da invidiare a questo smartwatch sì ha solamente un display un po' più piccolino ma per il resto non ha assolutamente nulla da invidiare altrimenti quello che io mi sento di consigliarvi è andate su Amazon cercatevi il GTS di prima generazione che adesso trovate più o meno a 100 euro ma vi portate a casa un display molto migliore AMOLED insomma questo Amazfit BPU non mi ha davvero entusiasmato non ho ben capito il posizionamento perché tutti gli amanti della serie BIP di Amazfit sono interessati soprattutto all'autonomia e quindi gli Amazfit BIP hanno un display transflective che sicuramente fa storcere un po' il naso dal punto di vista dei colori soprattutto all'aperto però vi porta una grande grande autonomia qui abbiamo un display TFT che non è all'altezza dell'AMOLED ma che in compenso non vi dà neanche quella grande autonomia quindi sinceramente qua io passerei ad altri smartwatch ditemi qua sotto cosa ne pensate like iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti